Che sia chiaro, tu resti da una parte della stanza e lui dall'altra. Gli ho già detto la stessa cosa. Carla, ma di che stai parlando? Tu resti da una parte e lui dall'altra. È qui. Chi è qui? Ollie. Fai un segno di aver capito, sembri una che ha perso le capacità motorie. Io... Perché? Perché non sono brava a dire di no. E qualcosina te la meriti pure. Questo è tutto il mio mondo. La mia infermiera, mia madre, la mia malattia. Ho 18 anni, ma non sono mai uscita di casa. Se lo facessi, probabilmente morirei. Salve, mia madre vi manda un ciambellone. Benvenuti nel quartiere. Sua figlia è in casa? No, non c'è. Controllavi le e-mail e lo guardavi dalla finestra. È gentile. Quando parlo con lui, mi sento come se fossi fuori. Lui è qui. Lui chi? Sei diverso da come pensavo che fossi. Più sexy, vero? Che ti succederebbe se andassi fuori? Probabilmente autocombustione. Qui l'aria è filtrata. Fuori ci sono i virus e i batteri. Dove andresti se potessi? L'oceano non l'ho mai visto. Sicura di stare bene? Adesso sto benissimo. È sempre così. Non è mai così. Non decidi tu di cosa ha bisogno. Devi andartene. Era mia amica. Avrebbe dovuto badare a te. Non potrai rivederlo. Cara mamma, lo so che restare in casa mi permette di vivere. Ma questo non è vivere. Voglio provare tutto. Tutto. Nettie, che cosa fai? Torna dentro. Devo sapere se sono veramente malata. E l'unico modo per farlo è uscire di casa. Nettie, cosa c'è? Ti ha incasinato la vita. La mia vita è migliore se ci sei tu. Nettie, mi sei rimasta solo tu. Non ti perderò. Sono disposta a sacrificare qualunque cosa solo per vivere un giorno perfetto. Uh! Ciao a tutti. Oggi ho qualche curiosità cinematografica che forse ancora non sapevate. Per esempio, vi siete mai chiesti quale sia il bacio più lungo della storia del cinema? Pare che sia quello in You Are In The Army Now, il film diretto da Louis Saylor nel 1941. Si va indietro, eh? Regis Toomey e Jane Wyman, mogli del futuro presidente degli Stati Uniti Ronald Reagan, rimasero con le labbra incollate per 3 minuti e 5 secondi. Ah, però. Qual è invece il film che ha vinto più Oscar nella storia del cinema? Lo sapete? Sono tre. Ben Urra del 59, Titanic nel 97, Il Signore degli Anelli, Il Ritorno del Re del 2003. Tutti premiati con ben 11 Oscar. E invece il più romantico, quello che più di tutti vi ha fatto battere il cuore e sognare? Ecco, secondo una recente classifica, il più romantico di tutti e di tutti i tempi sarebbe Casablanca, capolavoro del 1942, interpretato da Humphrey Bogart e Ingrid Bergman. E per finire, sapete quale attore è morto più volte durante i suoi film? Si tratta di Robert De Niro, il quale ha recitato in 14 pellicole all'interno delle quali il suo personaggio moriva. Alle sue spalle, in questa macabrissima classifica, troviamo Bruce Willis con 11 morti e poi ci sono Al Pacino, Jack Nicholson e Dustin Hoffman con 9 morti. E prima di lasciarci, ecco la citazione da un film molto famoso. Signori, non potete fare a botte qui, è la stanza della guerra questa. Chi lo sa, scriva nei commenti qua sotto da che splendido film è tratta. Vediamo in quanti lo sapete. Al prossimo video. Ciao da Vale!